che ha dato questo cattivo esempio. La guerra è un'ozione che quando non si accettano la decisione è perché non si conosce. Io dico, quando a te non piace questa decisione, vai a parlare e dì i tuoi dubbi e porta avanti una discussione fraterna e così va avanti la cosa. Il pericolo è che non mi piace e me lo metto nel cuore e così ti vengo con una resistenza e faccio delle conclusioni brutte. Questo è successo con queste ultime decisioni sulla benedizione a tutti. Il Signore benedice tutti, tutti, tutti che vengono.